Benvenuti a questa nuova intervista dell'agenzia di stampa Italpress. Oggi con noi abbiamo Gabriele Ferrieri che è presidente dell'Angi che è l'associazione nazionale giovani innovatori. Dunque si è svolto il 6 giugno a Milano nella sede della Borsa Italiana Palazzo Mezzanotte, questo importante ed è alla seconda edizione di questo Young Innovators Business Forum. Ci racconta cosa si è detto, di cosa si è discusso e chi c'era e quali sono state le innovazioni, visto che si parla proprio di quello che hanno preso maggiormente la vostra attenzione. Assolutamente, innanzitutto grazie per l'invito e dell'opportunità. Lo Young Innovators Business Forum nasce proprio con l'obiettivo di mettere al centro dell'agenda i temi degli investimenti, delle nuove tendenze tecnologiche, ma soprattutto le imprese innovative. Abbiamo chiamato a raccolta in questa importante iniziativa che non poteva svolgersi se non a Milano, che sia per rappresentazione del contesto delle start-up innovative che come capitale economica italiana, proprio all'interno della Borsa Palazzo Mezzanotte, rappresentasse proprio la voce di quelle principali testimonianze che in termini di case history e best practice ci rappresentassero la voce dell'innovazione. è divisa poi per vari cluster tematici, quindi dalla mobilità alla sostenibilità, dalla digital health alla future mobility, con l'obiettivo quindi di creare un contesto di confronto tra istituzioni, imprese, innovatori, per vedere proprio quelli che sono i principali trend di sviluppo del nostro egoista in un paese, in quanto sia in ottica di attuazione del Piero Nazionale di Ripresa e Resilienza, che nel colmare il divario digitale tra l'Italia e gli altri Stati membri, è fondamentale vincere e portare a casa questi importanti traguardi in cui noi come ANGI, come Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ci teniamo anche come appello, rivolta alle istituzioni e ai vari decision maker, di sottoscrivere un partenariato pubblico-privato tra questi attori ed è quello che abbiamo proprio suggellato all'interno di questo importante business forum, giunto alla sua seconda edizione e svolto in collaborazione con gli uffici del Parlamento Europeo in Italia, dove abbiamo avuto anche le testimonianze importantissime del Ministro Fratina all'Ambiente, del Vice Ministro Valentino Valentini al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Sottosegretario Morelli alla Presidenza del Consiglio e del Sottosegretario Frassinetti al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quali sono le due storie, le due case history, che l'hanno colpita di più dal punto di vista dell'innovazione e magari essere il più vicino possibile alla portata di tutti? La prima sicuramente sul fatto che anche seguendo gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 ci sia una sensibilità da parte sia dei consumatori che delle imprese nel cercare di diminuire quelle che sono le emissioni di CO2. Su questa abbiamo avuto la visione di operatori sia nazionali che internazionali che hanno portato strumenti e visioni sia del processo di elettrificazione che di transizione energetica, quindi sia di operatori nel campo dell'energy che del campo dell'automotive e soprattutto un'importante storia presa anche dal Politecnico di Milano sui nuovi strumenti legati al machine learning, all'intelligenza artificiale al sostegno della salute e del benessere, considerando come anche dopo la pandemia la spesa della sanità è aumentata ma soprattutto ci ha ricordato anche l'importanza di digitalizzare tutti quelli che sono i processi nel circuito salute. Queste sicuramente sono le due delle storie più importanti che sono emerse nel corso della nostra tornata milanese. A proposito dell'intelligenza artificiale, uno dei temi più attuali in questo momento è la famosa CHALGPT. In Italia è stata per un certo periodo anche vietata, diciamo così. Lei come la vede? È una cosa da favorire oppure bisogna mettere dei paletti? Noi da innovatori ovviamente siamo nel promuovere e diffondere tutte le tecnologie e le innovazioni in tutte le sue forme come da nostro slogan, però noi siamo anche per la visione del concetto di umanesimo digitale. Quindi l'uomo deve mantenersi al centro di questa importante trasformazione. Pertanto per quanto siamo ovviamente volenterosi nel promuovere queste applicazioni siamo fermamente convinti che queste devono avere dei paletti e delle regole soprattutto dal punto di vista etico, tant'è che siamo sostenitori anche del manifesto dell'etica e dell'intelligenza artificiale, sottoscritto tra l'altro tra Microsoft e IBM in collaborazione con il Vaticano, con un'importante missione anche della Pontificia Accademia per la Vita in cui è importante innovare e crescere ma è anche importante darsi delle regole e su questo credo sia fondamentale nel poter disporre di un percorso di sviluppo e di orientamento ma in sicurezza, ricordando sempre l'uomo al centro e ricordando sostanzialmente il concetto di humanitas. Benissimo, ringraziamo Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI e vi diamo appuntamento alla prossima intervista dell'agenzia di stampa Italpress. Grazie